Yugi a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi ho finalmente arrivato col nuovo set di speed duel duelli delle ombre dove all'interno possiamo trovare i mazzi di loro tre loro altri tre e lei è una topa incredibile e ovviamente mio padre jader ma ovviamente prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da card game corner il mio sponsor trovate il link del loro store qua sotto in descrizione inoltre se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon dragon ball one piece forza will e digimon trovate il mio instagram qua sotto in descrizione contattatemi mandatemi delle foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo procediamo con l'unboxing allora ragazzi capiamo un po come muoverci perché qua è da capire un po perché ovviamente sul canale abbiamo già parlato di questo prodotto e vi ho ovviamente già pollerato tutto tutto il contenuto mi sembrava abbastanza scontato però diciamo che un'occhiatina alle robe migliori gli si può da poi ovviamente andremo a vedere la ciccia quello che ci interessa le secret cazzo adesso non vorrei dire magic corner a sto giro un po il braccino corto perché nel senso l'ultima volta e la volta prima con speed duel me l'avevi inviato i tre perché a sto giro uno solo io volevo il playset super poli porca troia c'erano le secret dentro comunque bene mi sono auto spoilerato una secret top come potete vedere abbiamo questo incredibile uria allora andiamo subito con il best play mat no è impossibile non c'è l'allor qua dietro dai che cazzo c'entra allora a parte che il tappetino c'è sta anche diciamo che c'è po c'è posso stare è carino da come ricordo questo scontro non c'è mai stato con jaden malvagio contro il professore malvagio ma era lui buono contro lui ma dettagli forse sbaglio io ma non credo e nel retro vediamo abbiamo delle combo la banne del east spoiler di quella nuova non è non è la banne del east ragazzi è lo spoiler di quello che c'è dentro le regole ragazzi facciamo un video su come si gioca speed duel fatemelo sapere qua sotto con un commento così nel caso impariamo tutti a breve ragazzi vi farò un video anche su rush duel e capiremo più o meno come funziona anche quel formato vabbè detto questo andiamo a vedere cosa c'è qua dentro comunque mi sa no aspetta perché ci dovrebbero essere più mazzi nella stessa confezione quasi va di venti carte allora via vediamo cosa abbiamo abbiamo genesi vampira bambino vampiro famiglia vabbè tutta la roba vampiro diciamo che questo è carina come carta questa fa schifo fa schifo ragazzi questa è carina la puoi giocare dove si può giocare questa in in edison e anche in gotto sepoltura pure non è male questa vabbè questa non ricordo dove usciva poi si usciva da fotone per nuova no è differente scusate un lapsus poi questa ottima perché il mazzo non è neanche così così malvagio cioè non è così brutto e ci sta alla fine monostampa ci aveva da drev costava troppo poi raga questa è tutta palta eh vabbè questa è carina questa è palta tanto ragazzi non non pensate che sia il set incredibile delle stampe è un buon set c'ha delle ottime carte però c'è c'è anche tanta palta considerate questo perché sono mazzi per un altro formato che poi si possono giocare in yugi un altro paio di maniche eh adesso non vorrei dire ma sta roba la stampano meglio delle carte da espansione cioè queste difetti sul back non ce l'hanno eh probabilmente chi le produce è lo stesso però chi le produce dovrebbe dare una controllata almeno a formato standard perché quelle sono veramente escono smintate allora andiamo con il mazzo di jaden e vediamo se anche qua riusciamo a tirare fuori qualche cartina carina da portarci a casa allora abbiamo roba hero che queste poi sono state reprintate tutte nel vecchio speed duel quindi non ne capisco l'utilità e va bene ragazzi queste non gliel'ho mai vista i giocaggi di idee poi questa sì questa c'ho dei dubbi questa non me la ricordo questa no questa è una buona carta questa se me ne inviavano tre potevo fare un bel playset super poli invece no toccherà recuperarla che poi non vorrei dire ragazzi dopo ci vediamo i prezzi sul market che le secret non costano poco eh considerando quanto costa il prodotto me sa che conviene più quello che le singole uh bello per dragoon poi vabbè red eyes questa carina per edison dammene tre di queste allora mio padre mio padre l'hanno reprintato finalmente 12 euro costava e neanche nm vaffanculo poi ho cosmic ottima carta poi vabbè nulla attacco vabbè se proprio voglio trovare una carta decente allora apriamo lo structure di helios che 100 100 è tutta immondizia tanto non credo ci sia niente di utile qua dentro se non la terza super poli no super poli impossibile la terza sepoltura sciocca probabile allora comunque qua dentro sarebbe bello se ci mette se ci fosse anche un gremmaggio uh corvo c'era una carta buona mio padre c'è anto è ora mirror match di gremmaggio ti aspetto poi vabbè rilascio beh ciclone galattico non è male questa vabbè macro guarda ragazzi se lo sbusto secret sarebbe top adesso vediamo cosa riesco a fare ma cioè ho visto i prezzi attuali non c'ho sento non voglio spendere così tanto dovrebbe esserci anche un fascino eh se non ricordo male qua dentro eh e vabbè eh merda questa carina ragazzi volete per favore ditemi che volete la decklist nubiano per favore ditemi datemi un feedback positivo per questa roba decklist nubiano comunque non ho visto la nuvola pecorella sono stato scammato ragazzi non so pazzo c'era nello spoil ah ok può essere che hanno diviso il mazzo e metà sta qua dentro perché potrei sbroccare eh vediamo prima queste abbiamo bam conami ma perché deturpare una carta incredibile capisco i personaggi ma scusa almeno non prende gli stock che utilizzavi nel videogioco gx 15 anni fa ma ridisegna lì guarda ragazzi gli stock di eh speed duel no speed duel spirit caller mamma mia è vergognoso guarda so è lo stesso è lo stesso quando vuoi andare risparmio no no raga questo è don zalong sta roba ragazzi sta roba è vergognosa eh visto una carta bellina vabbè dark scorpion secondo me questa usciva d'asta comunque è incredibile che questa ragazzi carta è incredibile poi vabbè spirito del faraone sta roba mi sa che me la tengo perché è molto bellina poi vabbè palta palta questo se voglio dargli una motivazione spirito acqua elios questi sono belli questi sui questi mi sembra ci sono pure secret e mi gusterebbe recuperarli però sono svogliato e non lo farò mio padre poi vabbè lui a caso qua dentro carte oh eccolo bello anche il book visto che si gioca attualmente nel complesso anche tra le common c'è roba decente più che altro se c'è fosse stato un bel play set di tutto sarebbe stato molto più soddisfacente cioè nel senso se avessi avuto tre tre boxettini d'aprire bene adesso andiamo alla roba interessante perché qua dentro ci potrebbe essere roba veramente hot vediamo cosa c'è abbiamo questo incredibile uria che è veramente bello veramente ragazzi non sto scherzando ma le secret di speed duel secondo me sono proprio una sono proprio una spanna sopra quelle d'espansione è fatta proprio bene amon probabilmente mi sa che tutte e tre sono garantite infatti però sono belle sono veramente fighe poi abbiamo fusion oscura ok cyber drago super poli tipo dopo no neanche una carta figa anime però bello cioè gli da un plus la realità secreta questa questa è bella buona questa è un ottimo pull no 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 l'ultima non si può però bello il fatto che mi hanno dato uriamo nel raviel quello si lo apprezzo molto grazie grazie konami vedo che gli interessi dei giocatori li conosci ma tipo buttami c'è dentro un playset del super poli così per ride eh tanto per amicizia bene ragazzi adesso vi darò delle buone motivazioni sul perché comprare questo set andiamo a vedere la super poli mmm incredibile vediamo della prima dall'italia però primo playset 12 euro grande e io ho sbustato corvo poi abbiamo vabbè corvo che anche questo mi sa che è una manata incredibile 7 euro e 50 cioè ragazzi solo dei secret ve li pagate il box in più c'è tutta la roba common buona macro cosmo no ragazzi no non ci sto vado a spendere 100 euro su sto set non è possibile io che volevo spendere poco fascino anche questo potrebbe essere interessante dio mio 8 euro l'uno per un playset cyber drago vabbè cyber drago costa un prezzo umano e ci sta super poli common come minimo 4 euro l'una ed è garantita ragazzi eh poi demole maicius 1 euro 80 allora poi abbiamo drago scuro occhi rossi non ce ne facciamo niente re nebbia vabbè esiste già spadaccina mazzones bo e regina mazzones beh dai sta a un prezzo discretamente umano cioè c'è posto sta diciamo che nel complesso vabbè qua non so di niente galeo grugno e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se anche voi butterete soldi per comprare le carte brillanti di carte che esistono a un prezzo inferiore ma che quando le vedete così dite raga non c'ho più un soldo porca droglia la konami perché mi deve fare corvo secret dopo che me l'ha reprintato da blcr scusate io ok ho comprato quelli da blcr ora li ricomperò secret se sta cosa le super poli vabbè ragazzi non fate quello che faccio io non è salutare ciao a tutti grazie a tutti